E' partito il tesseramento 2018 per l'ente carnevalesca? Sì, è partito, è importantissimo per noi perché ci dà la possibilità di dare un prodotto di grande qualità se tutti i fanesi si tesserano e sostengono il proprio carnevale. I punti dove ci si può tesserare, ovviamente la sede dell'ente carnevalesca in Piazza Andrea Costa oppure al negozio Wind di Piazza Costanzi dove addirittura chi si tessererà potrà avere il passaggio a Wind con tutte le promozioni che Wind mette a disposizione e la sim prepagata gratuita per tutti i tesserati dell'ente carnevalesca. Quindi una grande promozione di Wind che ci è vicino, Wind in Piazza Costanzi e l'ente carnevalesca in Piazza Andrea Costa. Qual è l'obiettivo di quest'anno? L'obiettivo di quest'anno è ovviamente dare un prodotto ancora più di qualità rispetto a quello dell'anno scorso quindi facciamo un passettino alla volta. Abbiamo lavorato tanto in questo anno in silenzio, stiamo ottenendo dei risultati sia a livello di partecipazione degli enti pubblici sia a livello anche di bandi a cui stiamo partecipando europei fondamentali per la vita della carnevalesca e di tutte le associazioni ormai. Ovviamente l'obiettivo è mettere in sicurezza l'ente carnevalesca e tutto quello che gira intorno ormai di grossissimo di organizzazione per poter l'anno prossimo fare un... se quest'anno sarà un grande carnevale, l'anno prossimo sarà un carnevale che spacca.